Ammontano a 14,9 miliardi le rate di mutui e prestiti vari non pagate da quasi un milione di famiglie italiane. Tra le cause delle insolvenze, l'aumento del costo del denaro, l'incremento dei tassi e la corsa dell'inflazione, fattori che riducono il reddito disponibile e mettono in difficoltà i clienti delle banche nel rispettare le scadenze relative ai finanziamenti. A sostenerlo è la Fabi, il sindacato dei bancari.